questa è la situazione di milano ed è uno dei centri di milano che ogni giorno danno cibo alle persone che che non hanno nulla ok l'ho perso tutto, ci sono gli italiani, c'è di tutto è una situazione a mio modo di vedere assolutamente inconcepibile bene, subito qua dietro c'è il polo dell'università Vocconi questa è la coda, ci sono anche italiani, c'è di tutto ecco